Nel momento dell'anno in cui lo spirito di solidarietà si manifesta in ogni sua forma, essere vicini e più fragili diventa un momento in cui vivere il senso più autentico dello spirito del Natale. Il modo migliore è di sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità in cui nessuno è lasciato indietro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Per dare una carezza, per far nascere un sorriso, Per regalare un attimo di spensieratezza, l'amore non va in vacanza. Per regalare un attimo di spensieratezza, l'amore non va in vacanza. Per regalare un attimo di spensieratezza, l'amore non va in vacanza.